Sono anche docente a ESABAC e ho lavorato e lavoro anche con Erasmus perché sono valutatrice Erasmus e perché credo che l'azione Erasmus sia con l'azione Twinning la vera grande innovazione della scuola di oggi. Ovviamente le tre cose insieme praticamente Erasmus e Twinning e ESABAC non possono che essere un mix vincente che ho definito un matrimonio perfetto. L'obiettivo di Erasmus, e scusate se ripeto forse le cose che sono già state dette, è alto, è un obiettivo che fa parte del quadro strategico, vi è stato sicuramente già accennato da chi mi ha preceduto. E al di là degli obiettivi ufficiali che leggete nelle slide, credo che sia importante sottolineare che per i nostri studenti, mai come ora, sia indispensabile rivalutare e anzi incrementare questi valori importanti che vengono dal confronto, dall'apprendimento con gli altri, dall'allargare gli orizzonti, dall'imparare attraverso il fare e avere le competenze per inventare lavori, per inventare futuri. L'esperienza che noi stiamo vivendo, io mi riferisco a questa che avete visto accennata, è un'esperienza che riguarda la mobilità per il personale docente. Mi riferisco al progetto ESABAC per l'Europa, di cui vi parlerò più avanti, ma mi piacerebbe prima soffermarmi sull'importanza della qualità. È un'esperienza quella di ESABAC in Erasmus e comunque quella di iTwinning in Erasmus che è un'esperienza di qualità. Volevo soffermarmi sui criteri di qualità, che sono i criteri di un buon progetto Erasmus, quelli della pertinenza, la qualità del progetto, l'importanza e la validità di un impatto e di una diffusione che abbiano il senso di quello, che siano portatori di contenuti rispetto a quello che si è fatto. Questi criteri di qualità sono gli stessi criteri che noi ritroviamo anche in e-twinning, sono obiettivi quelli di un buon progetto e e-twinning qualitativi, quantitativi. Bisogna saper cogliere l'importanza dell'implementazione del progetto, dell'impatto e della disseminazione. Attenendosi a questi criteri, il progetto non diventa più un momento a parte del percorso di miglioramento della scuola, ma diventa un momento essenziale. E-twinning, non so se è stato già accennato qualcosa su e-twinning, essendo la più grande comunità di insegnanti e di collaborazione tra scuole, favorisce, come ho detto prima, fortemente questo aspetto di innovazione. Vi sarà detto poi da Simona Bernabèi, che parlerà dopo di me, che ovviamente questo criterio è essenziale anche per quello che riguarda lo sviluppo delle competenze digitali, sia dei docenti che degli studenti. Nel nostro progetto stiamo già vedendo come la difficoltà dei bravissimi docenti nel muoversi con la tecnologia si superi attraverso una condivisione tra pari, tra docenti. L'ambiente online che abbiamo in e-twinning è un ambiente che è veramente un ambiente foriero di cambiamenti, per lo scambio di idee, perché è uno spazio di lavoro, perché sostituisce i mezzi e le tecnologie che vengono usate separatamente per collaborare. I criteri di qualità quindi dell'innovazione pedagogica, dell'integrazione curricolare, della comunicazione e dello scambio, della collaborazione e della tecnologia, dell'impatto e della documentazione di e-twinning fanno sì che applicandolo a un progetto Erasmus possiamo migliorarlo e renderlo più efficace. Per quello che riguarda ESABAC, ESABAC per chi non lo sapesse è un dispositivo che è stato creato nel 2009 nell'ambito della cooperazione educativa tra l'Italia e la Francia, con l'accordo dei due ministeri, che permette di arrivare alla fine del percorso liceale o dell'istituto tecnico, perché esiste anche l'ESABAC Tecno, avendo delle competenze di lingua che sono almeno i due e competenze invece che sono quelle del BAC francese, perché si sostiene un esame di maturità calcato su quello francese e gli alunni prendono un secondo diploma. E' matrimonio perfetto secondo me perché è un progetto che veramente coniuga e inserisce l'Europa all'interno dei nostri programmi scolastici. Inserire ESABAC all'interno di e-twinning e di Erasmus ne è l'aspetto arricchente, perché far lavorare gli insegnanti all'interno di e-twinning attraverso la piattaforma e-twinning, come stiamo facendo in questo progetto, e poi gli alunni attraverso i contatti che gli insegnanti stabiliranno, ora vi farò vedere il progetto, diventerà una disseminazione lunga e costante anche attraverso il percorso triennale degli alunni. Questo è il nostro progetto che si è attivato a partire dal mese di settembre di quest'anno e questo è il screenshot della nostra pagina. Io vorrei in questo momento un attimino condividere, chiedo a Simona di rendermi per un attimo autonoma nel voglio condividere lo schermo, se no magari lo fa Simona. Comunque questo è il nostro ambiente, all'interno di questo ambiente abbiamo una home page, in questa home page viene all'esterno, i visitatori su internet possono capire di cosa si tratta, poi abbiamo le pagine, all'interno di queste pagine noi abbiamo di nuovo ripreso il criterio documentazione, collaborazione, che sono quelli precedentemente esposti, abbiamo uno spazio per i documenti, in cui gli insegnanti caricheranno per esempio i diari di bordo e le loro esperienze utilizzando quello che è il percorso di documentazione che abbiamo visto noi nei tweening, cioè documentare attraverso una narrazione, per esempio con strumenti come Adobe Spark e sono insegnanti che non hanno ad oggi mai fatto queste cose, quindi staranno facendo e aiutandoci tra noi, questi insegnanti, alcuni dei quali anzi molto reticenti con le tecnologie, avranno modo di imparare, imparare proprio quelle cose che rienderanno poi, in loro agire in classe, un'azione didattica che è quella degli alunni che abbiamo di fronte, perché vecchio discorso, si dice sempre che gli alunni sono nativi digitali, non sono nativi digitali per quello che riguarda un uso appropriato, intelligente degli strumenti, quindi saper documentare, saper rendere razionale l'uso della tecnologia è una cosa importante. Abbiamo un forum, noi abbiamo diviso questi forum in temi, c'è un forum di prova, c'è un forum caffè, ci sono dei forum dedicati ai vari step della formazione e i docenti imparano, impareranno a rispondere a ogni forum, pare una banalità ma non lo è, non creando altri thread, posteranno le loro esperienze con una cadenza, seguendo un diario di bordo predefinito e poi abbiamo lo spazio per le riunioni virtuali. Noi faremo 5 incontri soltanto virtuali per la formazione e li faremo utilizzando questo strumento, questo che stiamo utilizzando ora. È interessante vedere come quindi nel progetto ESABAC per l'Europa non solo si sta lavorando con i criteri di Erasmus, ma i docenti stanno diventando i docenti e twinning. I docenti e twinning hanno una caratteristica, noi lo diciamo spesso, è quella di essere portatori di virus, come diciamo noi ambasciatori, cioè essere capaci di contaminare con la loro esperienza concreta gli altri. Quindi la formazione che noi facciamo in questo progetto non sarà una formazione tradizionale, sarà anche quella, cioè i docenti fanno un percorso di osservazione in servizio o nel paese straniero, ma verrà addirittura, vedremo come la professoressa Cecchi riuscirà a ufficializzare questa cosa, vorremmo dare un valore anche a queste competenze aggiuntive che i docenti inesperti di tecnologie acquisiranno e monetizzare il tempo anche che si utilizza per scrivere un post nel forum, per inventare un percorso di progettazione e anche mi sembrerebbe interessante riuscire a valorizzare quei docenti che qui nella disseminazione che dopo aver fatto il percorso nel progetto Erasmus creeranno con le scuole o con i docenti che hanno incontrato in Francia dei progetti e twinning che avranno dei criteri di qualità e questi progetti e twinning saranno inclusivi delle loro classi e realizzeranno a loro volta dei progetti Erasmus. Quindi è un serpente che si chiude, un anello che si completa. Io vorrei farvi entrare nell'ambiente, provo intanto se, ecco, condividi lo schermo, ok. Scusate un attimino. Non so se in questo momento non vedo la chat, per cui se Luisella mi confermi se state vedendo quello che vedo io, cioè state vedendo le pagine. non so se non vedete lo schermo. Se no passo la parola alla professoressa Bernabèi, se magari ecco con una... perché io vedo già... Io vedo già le mie... il mio schermo, ovviamente. Ok. Allora passo la parola a Simona e se rimanesse tempo faremo quello... Ok. Ci siamo. Arrivederci, grazie. Allora, dunque, buonasera a tutti. Io vorrei solo che Luisella mi confermasse che si sente la mia voce. Per favore, perché nel passaggio da un microfono all'altro vedo Luisella che scrive. Scusate, ma... Ok, perfetto. Allora, io saluto tutti brevemente. Naturalmente, grazie mille al Liceo Machiavelli e alla Preside Pezzati che ci ospita. E grazie tantissimo a Sara Pagliai che è lì con voi e qui con noi a distanza. E a Daniela, a Luisella e a Simone. Ringrazio veramente il team perché oggi, nonostante tutti i problemi che ci sono stati nei trasporti, che ben sapete, immagino, perché insomma, soprattutto per me che mi sarei dovuta muovere da Grosseto, è stato impossibile arrivare in tempi ragionevoli e congrui. Ci siamo attivati con l'aiuto di tutti, devo dire, a distanza. E speriamo, insomma, di essere riusciti nel miglior modo possibile ad essere con voi anche a distanza. Quindi grazie davvero anche a nome mio, proprio a livello personale, perché questa degli ambasciatori toscani è una grande squadra, permettetemi di dirlo, anche in veste di referente pedagogico regionale. Allora, io mi, diciamo, per evitare che il mio faccione rubi trappabanda, mi blocco e procedo con le slide. Allora, dunque, noi fino adesso ci siamo tenuti aggiornati via WhatsApp sulle cose che dicevate in sala, lì al Machiavelli e sicuramente questa del progetto K1 che abbiamo svolto e di cui parlerò io è un progetto di formazione dello staff e che si è concluso, si è concluso in autunno di quest'anno, ha avuto uno svolgimento biennale e vogliamo, abbiamo deciso di parlarne quest'oggi perché veramente ha integrato i twinning in modo fortissimo all'interno del progetto. Innanzitutto, allora io procedo con le slide, vediamo e condivido il mio schermo un attimo soltanto perché è questo che voglio fare ecco qua due secondi arriva lo schermo mi dovreste dire dalla chat se eventualmente riusciamo a vedere riuscite a vedere lo schermo altrimenti io procedo ok, si vede benissimo, allora io per raccontarvi un po' il progetto utilizzerò il lavoro che ha fatto una delle colleghe la professoressa Diana Calzoni che è stata all'interno del progetto K1 che abbiamo fatto insieme che si chiama Team for CLIL che ha visto partecipare sia la professoressa Morica in sala che la professoressa Cecchi anche lei in sala questo progetto ha visto come protagonisti USR Toscana nel ruolo del capofile 13 scuole consorziate 13 scuole toscane è stato un progetto in verticale dedicato all'implementazione della metodologia CLIL alla formazione dei docenti e al curriculum verticale quindi diciamo che abbiamo impegnato docenti di scuole di ogni ordine e grado all'interno del progetto si sono svolte oltre 110 mobilità fra dirigenti, docenti e personale amministrativo le scuole che ci hanno ospitato per le mobilità sono state due scuole in Regno Unito e in Irlanda per la formazione linguistica 10 scuole ci hanno ospitato in Francia, Spagna, Germania, Olanda, Svezia e Irlanda fra primarie e secondarie per le attività di job shadowing il progetto vi dicevo ha avuto una cadenza biennale una durata scusate biennale ed è iniziato nel settembre del 2017 e si è concluso settembre del 2019 noi abbiamo utilizzato sia la modalità della formazione in presenza che la formazione a distanza quindi è stato un percorso blended anche se devo dire che abbiamo posto l'accento in modo particolare sulla formazione a distanza in cui noi crediamo moltissimo e che soprattutto in una regione come la Toscana che ha delle distanze basti vedere oggi una situazione sicuramente estrema ma anche in situazioni non estreme raggiungere e quindi realizzare eventi in presenza partendo da zone opposte della Toscana non è mai semplicissimo quindi soprattutto per esempio io sono un esempio vivente io vengo da Grosseto ma penso ad esempio ai colleghi che vengono dall'isola d'Elba e per esempio per eventi invece organizzati nella zona tirrenica per colleghi che dovessero arrivare da Rezzo o da Prato o da Firenze quindi diciamo che abbiamo cercato di fondere di mettere insieme queste due modalità abbiamo creato due spazi di incontro in presenza a Pisa e a Scandicci e sono stati degli eventi di avvio del progetto e quindi in questi due eventi abbiamo fatto un po' il kick off del progetto illustrando il progetto, i tempi, le tematiche, gli accordi eccetera e tutte le procedure la procedura di carattere amministrativo abbiamo poi fatto la formazione in piattaforma di cui parlerò dopo perché ne parlerò un pochino più diffusamente parlando di etwinning e il progetto in sé si è snodato attraverso un percorso di formazione linguistica come vi dicevo in due scuole una in Irlanda e una nel Regno Unito e l'occasione è stata per i docenti molto interessante perché hanno potuto coniugare grazie al finanziamento del programma Erasmus hanno potuto coniugare l'esperienza linguistica per il rafforzamento delle competenze linguistiche l'obiettivo era un buon obiettivo cioè quello del raggiungimento del rafforzamento del livello B2 linguistico chiaramente questi sono erano tutti docenti CLIL quindi disciplinaristi e non docenti di lingua straniera e poi hanno avuto la possibilità anche di lavorare in un percorso metodologico il tutto si è rivelato estremamente efficace i docenti sono ritornati con racconti di esperienze molto positive che naturalmente non hanno solo a che fare con il percorso didattico come è evidente come sempre è per un percorso Erasmus ma sono proprio esperienze di vita quindi esperienze che arricchiscono dal punto di vista personale relazionale, professionale ma in senso proprio di competenze anche trasversali di competenze morbide di competenze soft e oltre alle lezioni sono state organizzate delle visite alle istituzioni scolastiche e in particolare c'è stata una visita alla Manchester University in cui i docenti hanno assistito a una lezione della professoressa Lister per quello che riguarda invece il job shadowing abbiamo potuto approfittare dell'ospitalità di scuole francesi come vi dicevo ve lo dicevo olandesi, svedesi, tedeschi, spagnole e irlandesi 56 docenti sono partiti in job shadowing per una settimana hanno alloggiato in alloggio in famiglia o in hotel ma insomma diciamo varie tipologie di alloggio e nella modalità del job shadowing a cui io stesso ho partecipato in Irlanda abbiamo diciamo effettivamente vissuto un'esperienza di osservazione anche attiva sia della gestione delle lezioni che appunto del class management abbiamo fatto incontri con staff delle varie istituzioni scolastiche con vari diciamo sono ruoli dello staff delle differenti istituzioni scolastiche quindi molto interessante personalmente è un'esperienza che avevo già fatto grazie a una borsa Comenius ma devo dire che sono più che ma e devo dire che sono sempre delle esperienze incredibilmente arricchenti proprio perché si vive si vive dall'interno quello che quello che si vive all'interno di quelle scuole quindi estremamente positive ricadute ricadute a livello dell'attività professionale della didattica diffusione e condivisione con i colleghi a rientro sia nel primo caso nella prima esperienza che nella seconda e naturalmente grande entusiasmo che come al solito si riporta proprio e che dà energia e linfa direi alla professione per insomma dal confronto si esce sempre estremamente arricchiti e rinforzati se così si può dire così diciamo rienergizzati dal dal confronto con anche con paesi con paesi esteri e con colleghi esteri c'è stata poi una mobilità ulteriore che abbiamo ricavato per i formatori perché all'interno di questo progetto c'era essendo un progetto di formazione staff abbiamo avuto appunto come si diceva una parte molto consistente dedicata alla formazione in presenza e a distanza e questa è stata l'ultima mobilità che i docenti formatori hanno hanno potuto fare in Irlanda e durante questa formazione sono stati affrontati temi essenziali per la metodologia CLIL quali il teamwork stili di apprendimento differenti task based learning scaffolding and learning support thinking skills scusate TIC e si è parlato anche dell'approccio in termini di pluraliteracies all'insegnamento e questo è stato un ulteriore momento di formazione davvero davvero interessante per i formatori del team diciamo di questo progetto dal punto di vista prima di passare proprio alla formazione a distanza che è quella che è interessato ai training abbiamo in questo progetto convalidato il percorso dei docenti grazie allo Europass e diciamo che sono stati sono stati gli Europass hanno attestato le competenze conquistate durante questi periodi di formazione quindi l'attestazione e la validazione dei percorsi è stato anche un momento molto importante e necessario di questo nostro percorso ok no scusate ogni tanto allungo l'occhio su Whatsapp perché non so se ci siano dei problemi fra me e voi e quindi scusatemi se mi interrompo ma controllo per quello che riguarda la produzione dei materiali noi abbiamo utilizzato come dicevo la piattaforma Twinning abbiamo sul nostro Twin Space di progetto condiviso tutti i materiali che sono stati prodotti e quindi dalle schede di lavoro alle griglie di osservazioni lezioni che sono state create via via anche come attività di feedback dei webinar che abbiamo che abbiamo svolto e poi naturalmente tutto un diario diciamo video e fotografico delle esperienze che sono state che sono state che sono state vissute da tutti noi partecipanti al progetto e e quindi insomma all'interno del del Twin Space si trova tutto quanto noi abbiamo abbiamo prodotto durante il progetto ci sono stati ora non li trovo più ma ci sono eccoci ci sono stati tre eventi di disseminazione del progetto questi tre eventi sono stati dunque un evento è stato fatto è stato realizzato a Scandicci e all'inizio settembre uno a San Giovanni scusate all'Isis Giovanni da Castiglione di Castiglione Fiorentino e abbiamo all'epoca della creazione di questo Padlet non era stato ancora realizzato l'evento di Grosseto ma a fine settembre è stato realizzato un evento a Grosseto presso l'istituto comprensivo 3 di Grosseto a cui ha partecipato anche l'agenzia nazionale Erasmus Plus Indire e quindi a chiusura di questo progetto è stato anche devo dire sono stati tre momenti molto utili di condivisione con i docenti io parlo per esempio della provincia di Grosseto la provincia di Grosseto che è una zona molto ampia anche di zone collinarie e montagnose sapete il comprensorio della Miata per esempio sono sempre momenti molto utili di condivisione per far avvicinare i docenti e anche i dirigenti al programma Erasmus che sicuramente non ha bisogno di presentazioni ma che nelle zone periferiche diciamo forse è è presente ma sicuramente presente certamente presente con bellissimi progetti ma che sicuramente non è mai la cui presenza non si sottolinea mai abbastanza perché essendo lontani da Firenze delle volte la situazione è un po' diciamo non in difficoltà ma comunque ha bisogno ha sete proprio di momenti di confronto tant'è che noi il 18 di dicembre grazie alla partecipazione dell'agenzia nazionale Erasmus Plus e in particolare grazie ringrazio tantissimo proprio a nome personale la la dottoressa Pagliai perché sarà presente cioè l'agenzia Erasmus Plus sarà presente con la dottoressa Falchi quindi ringrazio la dottoressa Pagliai per la loro partecipazione e sarà presente anche l'unità nazionale Twinning faremo appunto mercoledì 18 dicembre a Grosseto un evento presso il liceo statale Antonio Rosmini appunto di Grosseto passiamo poi velocemente io ripasso in modalità presentazione se non se volete interrompermi interrompetemi pure adesso io rivedo la chat per cui se voi avete qualsiasi cosa da dirmi e avete bisogno che io taccia ditelo perché ora vi rivedo e posso interrompermi quando volete quindi procedo che dite vado un pochino avanti parlo un po' di aiuto qualcuno mi scrive vai perfetto grazie allora dunque parlavamo del ruolo di twinning in Erasmus Plus e in che modo per vedere in che modo noi abbiamo utilizzato gli strumenti che offre la piattaforma twinning io credo che sia importante iniziare proprio da un punto base come vedete qui c'è un nuotatore questa questa immagine ovviamente non è mia ma è ripresa da un da un documento molto importante appunto è chiaramente un nuotatore vedete una specie di essere umano con tutta una serie di circuiti sul corpo che nuota e si cerca di orientare nella nella rete no? cioè in questa grande in questo grande spazio liquido e così inconsistente che la rete certamente al di là delle metafore e delle rappresentazioni queste immagini come vi dicevo è presa da un documento molto importante che è un framework che è il DigComp DigComp è un documento di riferimento fondamentale ha avuto delle edizioni successive e molte edizioni una successiva all'altra è un documento della Commissione Europea ed è proprio un quadro di riferimento come se fosse per gli insegnanti i docenti di lingue presenti in sala parliamo del quadro di riferimento per le lingue è esattamente diciamo volendo fare un confronto un quadro di riferimento per dare un sistema alle competenze digitali e soprattutto al livello di competenza dei docenti ma anche dei ragazzi in ambito di competenze digitali ci sono una serie di categorie come vedete vedete penso che si veda questa immagine in sala questo è uno screen del documento proprio della copertina del documento e vedete che si parla di comunicazione collaborazione creazione di contenuti digitali sicurezza risoluzione dei problemi e informazione e data literacy sicuramente quello che fa i twinning è muoversi nella direzione dell'aiutare docenti e studenti a nuotare nella rete se così si può dire se noi facciamo un po' mente locale adesso probabilmente in sala ci sarà ci saranno docenti che hanno fatto progetti twinning e che quindi conoscono bene i twinning ma anche è possibile che ci siano docenti che di twinning non hanno mai sentito parlare in realtà sappiamo che i twinning perché ve l'ha detto Marina e probabilmente ve l'hanno già detto in sala è una piattaforma che altro non è che uno spazio all'interno del quale docenti progettano e lavorano e utilizzano uno spazio offerto dall'Europa sapete che i twinning è un'azione diciamo più piccola all'interno del programma Erasmus Plus è un'azione che non prevede finanziamenti ma è un'azione che forse proprio perché non prevede finanziamenti le è consentito avere una estrema flessibilità all'interno dei percorsi che vi si realizzano per cui dicevo consente a docenti di realizzare dei progetti questi progetti devono essere ma non dico devono perché qualcuno ci obbliga ma è opportuno che siano percorsi assolutamente inseriti immersi nella didattica dei singoli docenti quindi non si parla di non si tratta di una progettazione esterna o diciamo aggiuntiva ma si tratta di del docente che collabora con un altro docente o con più docenti dell'Europa per realizzare ciò che ha in mente per portare a termine nel proprio percorso didattico e questo è l'importante e questo lo si fa in ambito utilizzando le tecnologie digitali quindi naturalmente dentro questi progetti si tirano dentro gli studenti perché è evidente altrimenti di che si parla e sono progetti che possono avere una durata anche molto piccola così come possono avere una durata molto lunga possono investire e coinvolgere docenti di ordini di scuole diverse e possono appunto essere realizzati in verticale possono essere diciamo i percorsi che si possono creare nei twinning possono essere dedicati e incentrati su temi assolutamente differenti possono svolgersi utilizzando la lingua straniera come lingua veicolare ma da qualche anno possono anche realizzarsi fra docenti della stessa lingua ovviamente ma docenti di lingua italiana ecco perché per esempio etweening diventa un fenomenale contenitore per progetti in rete quindi per fare rete fra scuole la parentesi sull'importanza della rete è doverosa ciò che abbiamo fatto noi quindi cioè ci siamo messi utilizzando un progetto etweening a lavorare sul nostro progetto erasmus ed etweening ci ha fatto da contenitore all'interno di erasmus come sapete etweening non è non fa fra virgolette guadagnare punti in più al momento della valutazione del nostro progetto quando viene presentato un progetto erasmus però sicuramente dimostrare di utilizzare etweening in un modo concreto quindi non dire io uso etweening perché uso etweening ma uso etweening in questo modo intendo usarlo in questo modo sicuramente è una una buona una buona presentazione per chi poi valuta il vostro il vostro progetto e dicevo il framework delle competenze digitali entriamo proprio nel vivo del discorso non mi scorre non mi scorre la pagina dicevo aspettate torno un attimo indietro queste competenze sono competenze che sia studenti che docenti attraverso l'utilizzo di etweening imparano ad usare o continuano ad usare ok quindi nello spazio di etweening è uno spazio protetto questa è una cosa importante da dire c'è uno spazio che non è aperto ad esterni ma è gestito e condiviso da docenti che sono registrati e accreditati come docenti e non mi muovete le slide per favore e da da studenti si lavora per potenziare queste cinque competenze e quindi si creano contenuti digitali ci si occupa di questioni come la sicurezza in rete ma non perché se ne parli volendo se ne può anche parlare ma perché attraverso l'utilizzo della piattaforma si sperimentano da vicino tutta una serie di regole non scritte o scritte dell'utilizzo della rete per cui sicuramente la 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 capacità dei ragazzi la il fatto che i ragazzi apprendano ad utilizzare in modo consapevole la rete quando si è fatto un progetto e-twinning naturalmente diventa quasi gioco forza diventa quasi una cosa che si acquisisce in modo autonomo non c'è bisogno di come dire ragazzi che hanno utilizzato le tecnologie guidati dai loro docenti che hanno loro spiegato che cosa che cosa stavano facendo non c'è più bisogno di 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 fare diciamo percorsi sulla sicurezza in rete questa è la mia esperienza ho a che fare con con studenti che non hanno bisogno che io sequestri loro il telefonino perché possano capire che il telefonino va usato in modo in modo corretto in modo adeguato al contesto e non si mettono a usare whatsapp se non è il contesto corretto perché questi progetti lavorare all'interno di questi progetti insegna loro nel concreto come si fa i safety la stessa cosa vale per il problem solving e-twinning è un modo di lavorare che ci pone un problema e ce lo fa risolvere insieme quindi comunicando e collaborando e lavorando in rete e appunto allo stesso modo in cui si lavora si apprende sull'e safety si lavora sulla data literacy quindi si lavora sul digitale andando avanti qui cose diciamo queste cose le abbiamo già dette come abbiamo utilizzato e-twinning all'interno del nostro progetto Twin4Clil noi abbiamo appunto del TwinSpace vi ho già detto e abbiamo creato appunto uno spazio per condividere tutti i nostri materiali abbiamo individuato dei temi che sono stati approfonditi in vari webinar che abbiamo gestito come noi oggi stiamo lavorando noi Marina Marina e io a distanza con voi e poi abbiamo naturalmente li abbiamo registrati e li abbiamo resi disponibili online la cosa importantissima del webinar è e devo dire piano piano stiamo cercando anche nel piano di progettazione regionale Twinning che assieme alla professoressa Cecchi i Twinning e con il mio contributo e naturalmente con il contributo di tutti gli ambasciatori ogni anno realizziamo e che ogni anno in dire Erasmus Plus ci finanzia stiamo inserendo sempre più comunque momenti di formazione a distanza per le difficoltà che dicevo prima proprio logistiche ma anche perché la formazione a distanza offre proprio dei tempi di fruizione che sono diversi più lenti anche più comodi abbiamo il tempo di tornare indietro se registriamo gli incontri abbiamo il tempo di tornare indietro e di riflettere di fare no di fare quel processo di acquisizione che è molto diverso da quello che invece oggi fanno per esempio i nostri studenti che è sempre molto veloce molto molto fast food invece probabilmente quelli della mia generazione amano ancora ma forse anche loro in realtà perché è un modo di tornare sulle cose in modo più riflessivo e più lento i temi che sono di cui abbiamo trattato in questi webinar sono stati appunto abbiamo avuto un primo webinar introduttivo che ha guidato la professoressa Daniela Calzoni dell'istituto Giovanni da Castiglione di Castiglione Fiorentino io ho parlato di twinning in un altro webinar poi abbiamo parlato di CLIL e di tecnologie digitali con la professoressa Paoli che è docente di lingua inglese presso l'istituto Piaggia di Viareggio di nuovo abbiamo parlato con Daniela Calzoni di Job Shadowing per il CLIL e poi penultimo webinar è stato CLIL as a quality change agent in the world complexity di Bianca Camiciotoli che è docente d'inglese all'istituto comprensivo di Scandicci scusate non mi ricordo il nome spero mi perdonerà se mi dovesse sentire e poi un ultimo webinar in cui Cinzia Masia e Simonetta Giordo Cinzia Masia e la professoressa Cinzia Masia è un'ambasciatrice twinning per la Sardegna ci hanno parlato della progettazione del curriculum verticale in lingua inglese di cui hanno trattato in una loro pubblicazione che si chiama Grow with English tutti dicevo tutti i webinar sono disponibili qui avete i link ma insomma poi queste slide sono disponibili chi le volesse e diciamo che io di alcune di queste cose ho già parlato vorrei concludendo dire che sicuramente la modalità che in questo percorso è stata vincente è stata proprio la possibilità di utilizzare in modo molto molto semplice e anche così divertente se vogliamo e non eccessivamente impegnativo dal punto di vista del tempo anche se il gruppo di lavoro è stato un gruppo molto impegnato nei mesi e negli anni senza dubbio ma certamente questi progetti sono progetti molto 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 ricchi di di attività e quindi richiedono molta molta attenzione però sicuramente quello che mi porto dietro e ci tengo a dirlo è il fatto che questo tipo di progettazione in E-Twinning in Erasmus e quindi queste sinergie queste dinamiche creano un grandissimo entusiasmo e un grandissimo sì un grandissimo entusiasmo sicuramente una possibilità di condividere di collaborare ma di creare anche dei rapporti veramente forti sia di livello di tipo professionale che di livello proprio di amicizie rapporti interpersonali e francamente credo che mai abbastanza si parli di questo perché insomma si tratta noi siamo esseri umani e quindi questo aspetto è fondamentale soprattutto per superare quei momenti di impasso che in ogni professione in ogni mestiere si presentano quindi ecco io congedandomi e ringraziandovi per l'attenzione direi che insomma non si fanno mai abbastanza progetti Erasmus e abbastanza progetti Twinning noi siamo a disposizione come gruppo Twinning Toscana e concludo perché facciamo una serie di organizziamo una serie di eventi che sono quelli di cui parlavo prima del piano regionale finanziato da Indire e progettato con USR Toscana e gruppo ambasciatori Twinning Toscana e appunto trovate tutte le nostre cose su Youtube il canale Twinning Toscana trovate i nostri eventi sulla pagina Facebook Twinning Toscana se ci volete venire a trovare se volete parlare con noi sul canale sul sul sito Indire e Twin Indire trovate tutti i nostri nomi le nostre faccette le nostre mail e quindi ci potete contattare ci potete scrivere bla bla e ringrazio davvero tutti fa un po' strano parlare da sola ma insomma ormai siamo abituati e meno male che ci siamo riusciti oggi ringrazio davvero tutti e saluto tutti quanti e passo la parola a bo grazie grazie